buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse darci una mano all'arrivare al traguardo dei diecimila iscritti eh visto che è gratis si iscrivesse al canale ed attivasse la campanellina è un semplice clic gratis fate finalmente un po' di calcio un po' di inter stasera e anche per tutto tempo quindi non sei invogliato nemmeno a uscire più di tanto arriveranno le belle giornate arriveranno anche altri bei momenti che l'Inter regala emozioni di tutti i tipi di tutti i generi ma veniamo alla partita di stasera allora io cosa ti posso dire giuse cosa le dici di Sassuolo Inter ti dico che per come si sono comportati a mio avviso contro il Milan due anni fa ovvero sia in maniera non tanto professionale è una mia idea eh ti dico che vanno mandati in serie B ti dico che eh i zaghi secondo me le vuole vincere tutte motivo per cui non vedremo tantissimo turnover e eh tra le partite diciamo che rimangono questa lei è quella più importante un po' per tutti tifosi dell'Inter ehm anche io casco in queste cose sarà da tifoso Becero sarà da tifoso come ti pare a te ma io li voglio mandare in serie B come tanti di voi sono totalmente d'accordo eh quindi è giusto eh stare sul pezzo prenderla seriamente questa partita e a loro manca Berardi che fondamentalmente equivale a mezza squadra e già questo eh eh è un grosso eh è un grosso vantaggio hanno Pinamonti che è un centravanti discreto a mio avviso Andrea non è male come centravanti il problema di Andrea vale l'è che attacca la porta solo centra a me centralmente e non sa attaccare la porta dai lati se lui imparasse ad attaccare la porta anche lateralmente sarebbe molto ma molto più forte negli anni questa cosa qui non l'ha migliorata e lui continua solo ad attaccare la porta centralmente nonostante tutto vede abbastanza la porta ma ripeto senza Berardi loro perdono tantissimo hanno delle punte piccole agili ai ai lati hanno Tosverd che a me piace tantissimo il giocatore del Sassuolo lo prenderei subito soprattutto con un Sassuolo in B Tosverd ehm l'ho visto giocare tre o quattro volte e mi è piaciuto veramente tanto questo ragazzo norvegese se non sbaglio e quindi nulla cosa c'è da dire su Sassuolo ragazzi è una squadra che prende tantissimi gol quindi se i nostri attaccanti stasera sono un attimino sul prezzo non penso che ci siano dei grandi dei grandi problemi mi piacerebbe vedere molto più turnover ripeto ma questa è la partita più importante di quelle rimaste vorrei vedere giocare di più più che non bisse che eh non ti dico classe perché ormai classe sembra destinato a lasciare l'Inter lo stesso sensi ma i due ragazzi bisogna farli giocare per vedere anche un po' eh cosa sanno fare bisse che qua così ne ha fatto vedere anche in partite importanti l'altro per ora non ha fatto vedere nulla ma l'altro secondo me è stato penalizzato parlo di più che non anche dal fatto che secondo me l'allenatore ad oggi ci crede poco in questo ragazzo più che non è un acquisto che a Inzaghi è piovuto dal cielo eh al gennaio Inzaghi non ha chiesto certo più che non hanno preso quello si poteva prendere quello l'unico prendibile era quello ecco perché arriva più che non al gennaio perché a noi serviva a se serviva un altro giocatore serviva un attaccante non serviva più che non ma poi si diventa sempre nei soliti discorsi che l'Inter può fare mercato in base a quello si può permettere di prendere indipendentemente dal ruolo vedi quest'estate partono da prendere Lukaku scendono a Samarzi ci prendono Pavard l'ultima settimana vanno dal Bologna a dare 10 milioni per Arnatovic siamo sempre lì non torniamo nei soliti discorsi c'è un giocatore che a me piace tantissimo che qualcuno di voi si ricorderà perché ragazzi 40 milioni per buongiorno giuse sono tanti sono d'accordo con tanti di voi che me l'avete scritto che me l'avete scritto nei commenti giuse 40 milioni per buongiorno sono tanti è vero sono tanti si può trovare qualcosa di buono o meno assolutamente sì bisogna scandagliare il mercato ma bisogna avere anche un po' di cash disponibile stranamente la gazzetta stamattina dice attenzione tutto fermo il mercato bisogna prima cedere prima ti descrive un mercato faraonico la gazzetta di 100 200 milioni quell'altro il reverendo di pechino su youtube 300 più oggi di milioni riguardi la e poi la gazzetta ti fa tornare sulla terra e ti dice attenzione perché prima bisogna cedere goodmanson è congelato e tante altre operazioni sono congelate solete salisburgo secondo me è un difensore incredibile ieri vi ho parlato di lucu di lucumi di lucumi l'avete visto ieri no è un bel difensore rapido eh bravo con la palla al piede attento sull'uomo forte fisicamente ma solo secondo me è ancora più forte di lucumi gli scala del contratto nel duemilaventicinque giovane salisburgo questo ragazzo un metro e novantadue del duemila è veloce è rapido esplosivo forte di testa forte fisicamente tanta personalità ecco io dopo buongiorno qualora saltasse buongiorno perché magari eh perché poi eh ragazzi qualcuno si scorda e qui bisogna trattare con Cairo con l'amico di Monociglio quindi non è facile ricordiamoci Bremer e tante altre cose sole è un difensore ripeto acquistare il contratto nel duemilaventicinque e con una vindicina di milioni lo puoi prendere e secondo me sarebbe tantissima roba sole a me piace tantissimo perché è pronto per esplodere e poi ragazzi soprattutto a un difensore giovane come Sole che ha ventiquattro anni non è un ragazzino ma non è è ancora giovane a ventiquattro anni eh perché sarebbe importante per lui venire all'Inter perché trova un maestro come Acerbi che nel posizionamento nella marcatura Acerbi ha dimostrato negli ultimi due anni che difensori come lui vedi anche Holland in finale Champions che non ha toccato palla difensori come Acerbi e bisogna dire ragazzi quello che il campo ha detto cioè che poi il giudice supremo è sempre il campo il campo è sentenza il per quanto concerne marcatura e posizionamento negli ultimi due anni difensori come Acerbi del panorama europeo non ci sono è il migliore in assoluto se mettiamolo tra i primi tre dai lo vogliamo mettere tra i primi tre difensori in Europa quindi se un ragazzo messore che già è forte che già ha personalità che già ha giocato in parcoscenici importanti che è un nazionale che è nell'Inter e trova professore come Acerbi che in marcatura e posizionamento lo può aiutare ti vuoi far capire soprattutto cosa è l'Inter e cosa vuole Inzaghi perché Acerbi Inzaghi non c'è benissimo mi abisce e fai bingo quindi io voto qualora saltasse buongiorno mi auguro di no perché voi lo sapete io è più di un anno che parlo di buongiorno però se Cairo comincia a sparare 40 50 60 vai da Salisburgo e con 15 milioni ti prendi su lei ma di cosa stai ragionando di cosa ragioni voglio capire ok buongiorno è forte ma ricominciamo 40 50 Cairo ci hai rotto le scatole voglio vedere chi te li dà 50 milioni per buongiorno buongiorno è un difensore forte che ha dimostrato ma che deve dimostrare ancora tanto e te lo dico io sono un suo stimatore dispensore a 25 30 massa quasi 40 45 calma calma ci becchiamo più tardi ciao mister grazie a tutti Grazie a tutti